Ciao a tutti! Oggi parliamo della regione Basilicata. La Basilicata è una regione del sud Italia. Confina a nord-est con la Puglia, a ovest con la Campania e a sud con la Calabria. È affacciata a sud-ovest al mar Tirreno, mentre a sud-est al mar Ionio. Il suo capoluogo è Potenza, mentre le sue province sono Matera e Potenza. È composta da 576.194 abitanti. Il territorio della Basilicata è prevalentemente montuoso e collinare, con una bassa percentuale di pianura. L'Apenino Lucano si trova nella parte occidentale della Basilicata e si trovano i monti più importanti, tra cui il Vulture, un vecchio vulcano spento, il Vulturino e il Monte Pollino. Troviamo anche numerosi calanchi, che sono dei rilevi argillosi pronti ad erodere, e le gravine, che sono delle spaccature della terra. La pianura più estesa è la piana del Metapunto. I fiumi più importanti sono l'Agri, il Bradano, il Basento e il Simi. L'agricoltura viene praticata soprattutto nelle zone del Metapunto, e produce cereali, olive, ortaggi, agrumi e frutti. L'allevamento è di ovini e cattini, che producono i prodotti tipici della regione, tra cui i formaggi. La pesca è una grande risorsa, è anche una delle attività tradizionali. Matera è la città simbolo del turismo culturale. È famosa per le sue abitazioni antiche in sassi, infatti la città è conosciuta come la città dei sassi, è anche molto famosa per i resti della mania grecia. Matera è patrimonio dell'UNESCO.